Dopo il successo ottenuto al Ponte dell'Immacolata, in Via del Serraio torna l'artigianato, la creatività e i peccati di gola di Caravan Serraio. Per tutta la giornata di domani, coloratissimi banchi con prodotti di ogni tipo e per tutti i gusti, ma anche animazione per grandi e piccini, accompagneranno lo shopping della prima domenica di saldi in questa parte del centro storico, che lentamente sta uscendo dall'oblio e dal degrado, grazie all'impegno del Consorzio Le Vie del Serraio, che ha promosso anche questa manifestazione, l'idea di farne un appuntamento periodico per attrarre i visitatori e spostare verso ovest il cuore del centro. Ed è un esperimento che noi come Consorzio abbiamo studiato per vedere quali sono le reazioni e quali sono i risultati e magari poi ripeterlo con una certa cadenza nel tempo. Si apre quindi un altro anno importante per il Consorzio, nato nella seconda metà del 2014, con la massiccia adesione di commercianti, residenti e professionisti della zona. Il 2015 è assegnato il rilancio di questo angolo di centro un po' dimenticato. Per il 2016 l'obiettivo è consolidare questa importante inversione di tendenza. Il Natale sostanzialmente è stata una stagione, come dire, forse un po' migliore di quella che ci aveva appena lasciato e anche delle ultime. C'è stato un pochino più di entusiasmo, questo sì. La strada in termini anche di visibilità ne ha un pochino, come dire, giovato, perché comunque c'è stato un maggior passaggio. Probabilmente vuol dire anche che con queste iniziative le persone si sentono un po' riabituate a passare anche di via del Serraglio. E poi, insomma, a supporto di queste iniziative abbiamo stretto collaborazioni anche con tutti i nostri vicini, non ultimi, per esempio quelli di Via Muzzi, che anche in occasione dell'8 dicembre programmarono un qualcosa anche loro nella loro strada, per far sentire che questa parte di città comunque ha voglia di essere viva e non soltanto di piangersi addosso.